amici buongiorno siamo al 4 dicembre 2022 come potete vedere la mattinata permette bene anche se molto molto avanzata quindi la nostra alba è diventata un sole pieno bene amici adesso non possiamo perderci in ciance ma dobbiamo dire solamente sigla si parte più più che salita bene amici miei una cosa molto importante vi devo dire vi devo augurare una buona domenica a tutti perché oggi è domenica e la domenica abbiamo il percorso un po fitto di ostacoli ciclisti con pedalate assistite che volano in salita come fulmini senza aprire bocca e senza fanno devo comprare anch'io la pedalata assistita alle gambe ci sono le protesi assistite ma per il momento funzionano e finché funzionano niente ti può fermare avanti è lì dietro alle nuvole possiamo osservare i monti della francia innevati monte argentea e il monte rama a cariti di neve siamo a 10 gradi per pensare che venerdì eravamo a zero meno uno oggi qui sembra di essere alle baleari ecco vi ricordate amici quando vi dissi questo qui prima o poi me lo prendo sulla caressa beh ci è mancato poco è rimasto appeso e noi ci passiamo sotto speriamo bene la metà bene guarda un po dove si è rotto e lì sicuramente dovrà intervenire l'anas quella ufficiale la nostra anas dei boschi a poca potenza nel surraccare le nostre lame da sega hanno i dentini da latte non possono competere con quelle s***e dell'anas che hanno i segoni a motore vi ricordate quando sono caduto nel buco nel ponticello l'hanno riparato bene ora non casco più forse stavo scivolando è un vero peccato non poter far sentire l'odore del muschio e dell'erba bagnata che pace che silenzio che profumo corbezzoli oh oh e sì che c'è e quanti e quanto sono alti ma sono amari la volpe e l'uva siamo alla fine della nostra cabinata e anche oggi è passato auguro a tutti una buona domenica ancora e a domani se dia vuole ciao a dire il vero un certo buchino nello stomaco eh sì prima dell'una luna e mezza non sarò a casa speriamo che la moglie non sia rapida tranquilli ho avvisato un permesso speciale un'ora di proroga per buona condotta ciao a tutti